Virginia, Don Domenico, buongiorno! Io sono a Roma, al ristorante Saluzzo al 9, e qui con me c'è lo chef Fabio Cinelli, buongiorno! Buongiorno a voi! Allora, grazie per l'ospitalità! Grazie a voi! Sono curiosa perché vedo cose. Che prepariamo? Prepariamo della pancia di suino, che abbiamo, in questo caso, abbiamo già passato nel forno e andiamo a finire la cottura per rendere la croccante in superficie, con delle verdure, a loro volta croccante, soltanto in padella e, con un tocco orientale, useremo della salsa di soglia per chiudere il piatto. Tocco orientale! Tocco orientale! Allora, andiamo a vedere qualcosa che fa un po' strano, però invece c'è questo ognuno che ci piace. Vediamo, in padella c'è... Allora, padella, olio di oliva, olio a extravergine d'oliva, lo rendiamo molto caldo, prendiamo le nostre verdure, prendiamo queste che le abbiamo già preparate. Quindi, tra le verdure hai scelto del radicchio, carote, zucchine... Mi permetto, ma è della verza viola. Verza viola, mamma mia, guardatemi! Se deve essere orientale, insomma, se lo prendiamo. Poi ci sono delle zucchine, dei funghi cardoncelli e del cipollotto. Allora, il fungo può essere solo cardoncello, Fabio? No, però il cardoncello, tra i più coltivati, è considerato quanto di meglio ci possa essere. Ricorda un po' un porcino coltivato, quindi ci chiamo concessi questo vezzo del cardoncello. Scusiamo della salsa di saglia, che viene apparentemente a costruire il sale. Niente di più e niente di meno. L'utilizzo è quello. E lascia quel retro gusto che, almeno a mio avviso, è molto piacevole. Questo, nel nostro caso, il maiale si sposa benissimo. Spegniamo, prendiamo un bel piatto da portata e ci andiamo a prendere. Ci poniamo sopra il nostro verdure. Sì, a forse di tenere piegata un pochino la padella in maniera tale che lasciamo, sia l'olio che tutto quello del mare. Che bello, anche questo è un piatto molto colorato e io amo questa unione di colori, perché anche l'occhio vuole la sua parte, no? Poi, dal forno, lo abbiamo messo a grigliare la nostra faccia. Questo diciamo che è il forno di servizi che utilizziamo in questo caso solo per grigliare. Che meraviglia! Non sto facendo niente, chef. Io dovrei essere un'assistente, invece sto qui che guardo. Ma va benissimo, perché sarà necessario per me assaggiare. Quindi, non ho fatto grandi cose, ma provo quello che hai fatto tu. Grazie, chef. Virginia, Don Domenico, buon pranzo a tutti. Buon pranzo a tutti.